E da Consiglio regionale Lombardo ci spostiamo al Consiglio regionale Veneto dove nei giorni scorsi è stato discusso un progetto di legge per indire un referendum consultivo sull'indipendenza della regione. Su questo argomento il nostro inviato a Roma ha sentito e ha chiesto un parere ai parlamentari veneti. Perché indossate questa maglietta? Per ricordare ai veneti che noi siamo qui fisicamente ma siamo con la testa a Venezia in particolare in questa giornata di manifestazione noi vorremmo essere lì ma siamo stati chiamati a rappresentare il nostro territorio qui a Roma e quindi con questo spirito oggi in questa giornata importantissima rappresentiamo la nostra gente qui nel profondo sud. Perché con il cuore siamo a Venezia a dar manforte a chi manifesta per l'indipendenza del Veneto perché noi abbiamo il diritto di avere lo strumento democratico che ci consenta di esprimersi se vogliamo o no la libertà in casa nostra. Noi stiamo indossando la maglietta perché vogliamo essere vicini al nostro popolo e ai nostri consigli regionali. È giusto che il Veneto possa autodeterminarsi e dunque noi chiediamo di fare un referendum e speriamo che tutte le forze politiche in Consiglio regionale Veneto diano un segnale di democrazia. È giusto sentire il popolo per sentire cosa ne pensa e cosa vuole. L'anno prossimo la Scozia si potrà esprimere attraverso il referendum per la sua indipendenza e questa è la direzione in cui vanno le democrazie come quella inglese più evolute con più tradizione della nostra e questa è la direzione in cui vorremmo andasse anche il nostro Stato che garantisse quindi almeno il diritto di pronunciarsi a un popolo fortemente identitario come quello Veneto, un popolo che ha il diritto di esprimersi, ha il diritto di esprimersi a favore della propria autonomia e a difesa della propria identità. Giornata storica per il Veneto, giornata storica per tutto il popolo Veneto, proprio oggi bisogna dare quel segnale, il popolo deve dare quel segnale per riuscire a riprenderci quell'identità che da anni mai ci manca. Naturalmente oggi è il giorno che si vota questo referendum e siamo convinti, io sono convinto che da questo punto è una partenza per riuscire ad avere la nostra autonomia che da anni cerchiamo di avere.